Ui ui ui, io te l'ho detto, che tu quando devi magari lavorare, devi mettere a fare la spia. Io l'ho fatta la spia, ma sei tu che ti sei dimenticato di dirmi che dovevi andare a mare. Ma se, vabbè, ma se per la prima volta non ti siamo andati. Sì, quando siamo venuti su Melon Playground, qua siamo su Melon Playground, quelli di Melon Playground sono fatti al bagno, il bagno. E quindi, sempre noi siamo. Sì, siamo sempre noi, ma quelli non sono i cameraman. Noi siamo cameraman, io sono la spia. Non so neanche chi sono, non so neanche che personaggio sono. Cavolo. No. Cosa? La stiamo scherzando? O cosa? AAAAAH! Che è fra... Un cameraman, un tic... Vabbè, un tiktoker. Uno schifititole te l'ha infettato. Brrrr, schifititop, dop, dop, yes, yes. Schifititabuduni. Nii. Schifititop. Oggi ti faccio ritornare nella Roma. Vieni qui. Vieni qua, che ti faccio ritornare normale. No! Togliti. Scribiti, dop, 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 yes, yes. Scribiti. Non so, io sti sono... Come? No. 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 Uaaaah! Un gran problema, brother. Quale star è stato infettato? Come? Nooo! Quindi dobbiamo farlo ritornare normale? si però io e la pretensione qual è? nessuno ora di un petto infiliamo il toilet da qualche parte così può infettarsi mi sento strano no non infilare il toilet no il toilet no non non tornando normale no si quindi ora io faccio questa cosa ma tu mi hai sparato vero? non io non li amo i cameraman quindi io amo i toilet quindi vado non 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 scappa sai cosa dico? allora per non farmi prendere vi faccio io scappo e volo così distruggo tutti ciao non ce l'abbiamo fatta non ce l'abbiamo fatta mmm 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 ma dove è andato? no non posso più salvare nessuno perché non ce l'ho fatta quindi diretti addio ragazzi il cosoli rosso come si chiama? non lo so eeeh come si chiamava il eeeh cosa come si chiamava? non ricordo lo lo speaker man zombie lo speaker man zombie perché lo speaker man prima era il nostro amico e ora per colpa degli scritti toilet l'hanno infettato ed è diventato è è diventato controller speaker man che significa che lo speaker man è stato fatto è stato eeeh è stato fatto è stato come si dice non lo so è stato infettato quindi noi dobbiamo farcela come come quelli come quelli che fanno i video sugli scritti toilet sullo speaker man zombie quello infettato agli scritti toilet ce lo dobbiamo fare quindi andiamo a salvare lo speaker man zombie così aspetta vogliamo salvare vogliamo far ritornare lo speaker man normale ora lo andremo a salvare speriamo che ci riusciamo andiamo a 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